Dicembre superrottamazione di Natale, concessionari all'auto, a montagna in Valtellina. Pulcini a confronto sul campo di pattinaggio dell'Hockey Club Chiavenna. Dalle 11 alle 13 di ieri mattina si è rinnovato l'appuntamento fra i giocatori dell'Under 10, della compagine chiavennasca e gli hockeyisti della vicina Svizzera, terra d'elezione di questo sport. Gran fermento in campo e in panchina, dove hanno sfilato, accanto alla squadra di casa, i giocatori delle giovanili del Bregaglia, del Poschiavo e dell'Albula. Chi parlava italiano, chi svizzero tedesco, tutti comunque accomunati dalla grande passione per questo incredibile sport di squadra che la società chiavennasca vorrebbe implementare, avvicinando proprio i più piccoli. 25 infatti bambini dai 5 agli 11 anni che partecipano nei giovanili Under 9 e 11 e che cominciano a gareggiare a 6 anni. Disputiamo i torni italiani, principalmente siamo sui pallaghiacci di Varese, Como, Milano e Chiavenna. Questi sono raggruppamenti, quindi ogni tanto si perde, ogni tanto si vince. Inizialmente i tornei che portano anche a dei risultati sono sull'Under 13. Adesso principalmente i bambini si devono divertire, devono imparare le regole del gioco e a stare tra di loro. Non c'è quindi una vera competizione, perché ai bambini a questa età cerchiamo di dare più che altro un valore di insegnare a livello sportivo, di amicizia. All'insegna dell'amicizia, del fair play, ma anche di tante regole, sanno agonismo, lo che è svizzero, di cui abbiamo chiesto conto a Fabio Pola, allenatore dell'Under 10 del Poschiavo, forte di 23 giocatori, ma che può contare su un vivaio fortissimo di Under 8. Da noi è molto diffuso, abbiamo nell'Under 8 quasi 35, poi salendo sempre 23, 20, 15. Molto sentito in Val Poschiavo questo sport. Ma perché non ci sono alternative o perché è proprio radicato? È radicato, c'è una grande storia nell'hockey, però bisogna anche dire che le alternative che erano lo sci sono diventate sempre più care, sempre meno ambite, quindi uno magari per far fare sport ai bambini li porta a giocare. È anche uno sport di gruppo, quindi questo aiuta. Invece lo sci è uno sport più solitario e questo il gruppo aiuta sempre. E se la mattina è stata l'insegna dell'hockey giovanile, finito in bellezza, con tartine e dolcetti preparati per tutti dalle mamme valchiavennasche, la sera ha visto il trionfo in casa dell'Hockey Club Chiavenna. Il confronto corre al Torino, ha visto vincenti verde e blu per 3 a 1, con buona performance nel primo tempo, ottima nel secondo, sufficiente nel terzo. A segno Mirko Pedranzini al 22esimo, su assist di Alex Stava e Luca Zerbi. Alex Stava stesso al 33esimo, su assist di Pedranzini e Lorenzo Lollo marcati. E ancora quest'ultimo, al 35esimo, su assist di Samuele Finessi e Vinci Mouya. Grande attenzione di Pavel Kavcic in difesa. Una vittoria che riposizione Chiavennazchi al secondo posto in classifica di Divisione 1, prossimo match in casa il 23 dicembre con la Osta Gladiators.